Giorgia Meloni si lamenta, si lamenta tanto, 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 fa la vittima, fa la vittima, dice, in un video recente dice che qualcuno ha evocato Piazzaloreto, fa la vittima, fa, fa la vittima, eh sì, quando non padroneggi più la situazione fai la vittima, ma io te l'avevo detto Giorgia Meloni, prima che tu diventassi premio, ti dissi non fare la premia Giorgia Meloni, se fai la premia perdi i capelli, ti ricordi Giorgia Meloni, quando ti ho dedicato quel video intitolato, se Giorgia Meloni diventa una palla, su YouTube Giorgia Meloni c'è un mio cerebellimo video intitolato, se Giorgia Meloni diventa una palla, io mi aspettavo di ricevere la querela, invece niente, se mi querelavi io mi sentivo tanto importante, si faceva un bel processo e tutti parlavano di Serafino Mazzoni e io in tribunale portavo i miei libri, facevo vedere a tutti che sono un uomo di cultura, non sono come il ministro della cultura, Gennaro San Giuliano, ma chi è che l'ha fatto il ministro della cultura? Ma chi sei stata tu Giorgia Meloni? Vabbè Giorgia Meloni non ti lamentare, non ti lamentare, ricordati che io te l'avevo detto, Giorgia Meloni non fare la premia, se no perdi tutti i capelli, a te Giorgia Meloni, a Gennaro San Giuliano e a tutti voi tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Mazzoni.